La gara mondiale per la produzione del petrolio ha un nuovo numero uno e il gigante statale russo Rosneft si aggiudica il testa a testa di settore battendo l'americana ExxonMobil. Da gennaio a settembre di quest'anno il produttore dell'Est ha sfornato 88,6 milioni di tonnellate di petrolio contro gli 87 della rivale americana. Rosneft detiene quest'anno il 24% della produzione russa.